Mir chiude la campagna elettorale a Lecce, Giampiero Samoriscal dalla platea dell'Hotel Tiziano. La scelta di essere nel Salento nell'ultimo giorno utile, prima del silenzio stampa e per accelerare la volata dei candidati alla Camera e Senato, nelle liste dei moderati Rivoluzione, in particolare per Paolo Pagliaro, candidato alla Camera dei Deputati. Un uomo libero, proprio come me, dice Samori, dandogli appuntamento martedì a Montecitorio. Azzardando un pronostico direi sicuramente eletto. Chiaro che è un grosso rischio che abbiamo corso, Paolo è un eroe, come lui d'amore, come lui tutti quelli che sono candidati, perché hanno accettato un percorso che potrebbe portare ovviamente a dei risultati eccezionali, ma anche a una coccente delusione, cioè non hanno chiesto niente neanche loro, hanno fatto esattamente come ho fatto io, io non ho chiesto niente e non hanno chiesto niente. E quindi io li devo ringraziare moltissimo per questo gesto di fiducia che tutti hanno fatto sulla mia persona, sul mio programma. I moderati rivoluzione hanno l'ambizione di riformare e rinnovare radicalmente il centrodestra, portare un vento nuovo che scacci via tutto il marcio che c'è ora nei partiti, dice Samori, e alla domanda se per lui essere definito il nuovo Berlusconi sia un complimento o un'offesa, lui risponde così. Forse è una presa d'atto, magari io penso di essere la prosecuzione al 2100 di un percorso. Parallelamente un simile percorso è stato intrapreso dal Movimento Regione Salento, oggi federato con i moderati in rivoluzione. Paolo Pagliaro si propone di portare in Parlamento tutte quelle battaglie intraprese dal Movimento e che oggi potrebbero essere portate realmente a compimento dall'ambiente a rilancio economico del Salento, un territorio oggi al collasso. E allora la colpa è da ricercare soprattutto in questa classe dirigente in calza Pagliaro che lancia un appello ai salentini. Votate Mir. Noi diciamo che questa classe politica ha fallito. Tutta la classe politica degli ultimi vent'anni, senza distinguo, non è una questione personale, pensiamo che abbia già fatto la sua storia e abbia già dato le sue risposte negative. Ora tocca a noi, gente che ripeto ha già dimostrato di saperci fare, di sapere quali sono i problemi, di essere entrato proprio nelle piaghe della società per capirli fino in fondo e in maniera intensa. Oggi c'è una possibilità per questo Paese. Se si saprà accogliere penso che avrà un futuro. Diversamente saremo proprio molto, molto, molto messi male. Nell'ultimo giorno di campagna elettorale la chiusura è qui all'Hotel Tiziano. Qual è il messaggio vuole lanciare ai salentini? Che c'è una possibilità. Intanto di mandare un salentino vero, che ama appassionatamente questa terra, in Parlamento. per portare le battaglie del Salento in Parlamento, per poter condurre insieme a voi una strada nuova fatta di impegno, di visione del territorio e di determinazione perché questo paradiso possa diventare finalmente quello che noi ci auspichiamo da tempo. Terra bella, produttiva, dove la qualità della vita e il benessere siano alti e che i nostri ragazzi possano trovare qui, a casa propria, il lavoro, la prospettiva e il loro futuro. Grazie.